Buongiorno, in questo video vi dimostrerò due cose, uno che le cure per il Covid esistono e due, che il nostro governo non ha mai voluto adottarle perché le case farmaceutiche non le vogliono. Non le vogliono perché vogliono mantenerci in questo stato di emergenza permanente finché la stragrande maggioranza della popolazione non avrà accettato di farsi vaccinare. In altre parole, ci ricattano con il tir e molla delle restrizioni affinché la gente esasperata accetti di vaccinarsi pur di avere indietro le proprie libertà. Il video è lungo perché è pieno zeppo di informazioni, ma vi chiedo di mettervi lì con un po' di pazienza e di guardarlo tutto fino in fondo. Scoprirete delle cose sorprendenti e io vi prometto che alla fine potrete vedere con i vostri occhi la prova provata di tutto quello che vi sto dicendo. Alla fine c'è anche un messaggio per tutti quelli che non vedono l'ora di vaccinarsi pur di uscire da questo incubo. Purtroppo scoprirete che il problema non si risolve affatto così. Siamo a maggio del 2021. Abbiamo passato la seconda Pasqua consecutiva chiusa in casa. Il tir e molla dell'apre chiudi continua e ancora non sappiamo quando potremo tornare in piena libertà. La situazione sanitaria oggi è questa. Non esistono terapie o protocolli ufficiali per curare a casa chi si ammala di Covid. Le uniche indicazioni che vengono date dal Ministero della Sanità sono di dare tachipirina al malato e restare in vigile attesa. Restare in vigile attesa vuol dire che non si fa niente di particolare finché il malato o guarisce da solo o peggiora. Se peggiora lo si porta in ospedale. Questo significa intasare i reparti, intasare le terapie intensive e avere anche un notevole numero di morti perché più tardi intervieni con il Covid maggiori sono le possibilità di morire. Attualmente, secondo le cifre ufficiali, abbiamo una media di circa 200 morti giornalieri dovuti al Covid. Ora qui non staremo a discutere quanti di questi morti siano veramente dovuti al Covid e quanti no. Oggi qui ragioniamo solo sui dati ufficiali. Quindi, ci dice il Governo, abbiamo gli ospedali intasati, abbiamo tanti morti dovuti al Covid e quindi siamo obbligati a mantenere le restrizioni per evitare ulteriori contagi. Questo è l'anello bestiale nel quale siamo stati obbligati oggi. Contagi, ricoveri in ospedale, terapie intensive, decessi e quindi nuove restrizioni. L'unica via di uscita, ci dicono, sarà la vaccinazione per tutti. Solo quando la stragrande maggioranza della popolazione sarà stata vaccinata, potremo riavere le nostre libertà. Ma tutto questo è necessario? È davvero il vaccino l'unica soluzione possibile per spezzare questo anello bestiale? No, non lo è. Un'altra soluzione ci sarebbe, ed è quella di curare a casa le persone subito, appena mostrano i primi sintomi, invece di stare lì ad aspettare il momento di portarli in ospedale. Quei 6-10 giorni che passano fra i primi sintomi e il ricovero sono cruciali per salvare le persone. E se il Covid venisse curato subito, molta meno gente intraserebbe gli ospedali, diminuirebbe la pressione sulle terapie intensive, ci sarebbero molti meno morti di quelli attuali e quindi si potrebbero togliere le restrizioni che ci rendono la vita impossibile. L'anello bestiale verrebbe spezzato e tutti potremmo tornare a vivere in piena libertà. E già, direte voi, ma se queste cure miracolose esistessero, ce l'avrebbero detto, no? No, purtroppo. E questo è il problema. Fatevi una domanda. Che cosa è successo quando i grandi VIP hanno preso il Covid l'anno scorso? Sono andati dritti sparati in ospedale dal loro medico di fiducia e dopo tre giorni erano già a casa, guariti fuori pericolo. Briatore ha preso il Covid l'estate scorsa, è andato subito a San Raffaele e dopo tre giorni è stato dimesso. Bello come una Pasqua. Donald Trump prende il Covid, corre al Walter Reed di Washington e dopo tre giorni esce più arzillo di prima. Berlusconi prende il Covid, ricovera in ospedale, dopo la settimana era già a casa, problema risolto. E secondo voi che cosa gli hanno fatto in quella settimana in ospedale? C'era lì la suora accanto al letto che passava le notate con lui in vigile attesa? Signor Berlusconi, come si sente? Ma per ora tutto bene, suora, speriamo e preghiamo. Ovvio che non sono stati in vigile attesa per lui. Lo hanno bombato di medicine giuste appena è entrato e in tre giorni gli hanno risolto tutto. Ricordate la famosa frase di Zangrillo? Con la carica virale che aveva, se Berlusconi avesse preso il Covid a marzo-aprile, cioè durante la prima ondata, sarebbe morto? Quindi vedete che le cure adesso ci sono. Per i VIP ci sono. Per la gente normale, invece, tachipirina è vigile attesa. Sperando di non finire intubati in terapia intensiva. Perché? Perché le case farmaceutiche, le cure normali non le vogliono. Altrimenti il sogno di vaccinare tutto il mondo svanisce nel nulla. A loro quindi servono i malati e i morti. A loro serve il lockdown, perché è l'unica arma di ricatto che hanno per imporre la vaccinazione per tutti. È il meccanismo del bastone la carota. Ti limito le libertà con la scusa dei malati e te le torno a concedere solo man mano che tutti si vaccinano. Guardate cosa ha detto non più di dieci giorni fa Biden agli americani. Vaccinatevi o niente aperture. Anche da noi la logica è la stessa. Chi vaccina poco avrà meno riaperture. Numero di vaccinati fra i parametri per le riaperture. Ricordate questo meccanismo del bastone la carota, perché ne riparliamo alla fine. Vabbè, direte voi, le case farmaceutiche guardano solo l'approfitto, vogliono vendere i vaccini, ci può stare. Ma come fanno ad imporre la loro volontà ai vari governi? Mica comandano loro, mica sono le case farmaceutiche che decidono le restrizioni. No? Tecnicamente no, ma nella pratica è esattamente quello che succede. Guardate questo schema che descrive come funziona il controllo dell'informazione nella nostra società. Alla base ci siamo noi, i cittadini. Tutti noi, milioni e milioni di persone, che ricevono informazioni dai giornali e dalle tv, i cosiddetti mainstream media. A nostra volta sopra di noi abbiamo il governo, che ci dice cosa dobbiamo fare. Ma sopra questi due c'è qualcos'altro. Ci sono le case farmaceutiche, che controllano sia i media che il governo. E come fanno a controllarli? I media vengono controllati in due modi. Il primo è con i soldi. Le televisioni hanno dei costi altissimi e hanno un bisogno disperato della pubblicità per vivere. Se le case farmaceutiche le togliessero la pubblicità, le televisioni avrebbero delle perdite enormi. Quindi sono ricattabili. O dici le cose che piacciono al Big Pharma, oppure ti chiudono i rubinetti. Il secondo modo che ha Big Pharma di controllare i media è grazie alla presenza quotidiana in tv dei virologi più noti. I vari Bassetti, Pregliasco, Crisanti, Galli, Burioni, Lopalco, eccetera. Tutti lì a ripeterci ogni giorno che solo con le vaccinazioni potremo riacquistare le nostre libertà. E se per caso qualcuno esce dal seminato, viene subito richiamato all'ordine. Guardate il caso di Crisanti. In autunno aveva detto che non si fidava di nuovi vaccini ed è stato subito massacrato mediaticamente e poi obbligato a vaccinarsi sotto l'occhio delle telecamere. Sembrava un agnellino condotto al macello. Questa è la potenza di Big Pharma. O reciti il copione che ti dicono loro, oppure vieni immediatamente ricattato e ricondotto all'ovile. Poi c'è il controllo sul governo. Anche qui questo controllo avviene in due modi. Il primo è il CTS, il famoso Comitato Tecnico Scientifico, che influenza quotidianamente le scelte del governo. È il CTS a dire al governo se aprire o chiudere una regione, se aprire o chiudere le scuole, a che ora deve iniziare il coprifuoco, eccetera. E da chi è composto il Comitato Tecnico Scientifico? Ci sono il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Segretario Generale del Ministero della Salute, il Direttore dell'AIFA, il Presidente del Consiglio Superiore del Ministero della Salute, il Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, il Presidente della Società Italiana di Pediatria, eccetera. Cosa pensavate? Che il Comitato Tecnico Scientifico fosse composto da anonimi scienziati con il camice e gli occhialini che passano le loro giornate in mezzo alle provette? No, signore, sono tutti pezzi grossi della sanità italiana, sono i baroni dei baroni, tutta gente legata a doppio filo a Big Pharma che non si sognerebbe mai di dire qualcosa che faccia dispiacere alle farmaceutiche. Altrimenti, addio posizione di prestigio e addio stipendio milionario. E fino a poco fa, nel Comitato Tecnico Scientifico, c'erano anche personaggi come Ranieri Guerra, che oggi è indagato proprio per la questione del piano pandemico, oppure Walter Ricciardi, che due anni fa dovette dimettersi da direttore dell'Istituto Superiore di Sanità dopo che emersero i suoi conflitti di interesse con le case farmaceutiche. Questi sono i personaggi che influenzano quotidianamente il nostro governo nelle scelte che deve fare. Quindi ogni volta che il Ministro Speranza dice il Comitato Tecnico Scientifico ci ha suggerito, in realtà ci sta dicendo Big Pharma ci ha suggerito e noi, docili, obbediamo. Il secondo modo in cui Big Pharma influenza il nostro governo è ancora più diretto, e cioè tramite le agenzie del farmaco. Sono queste che autorizzano, oppure proibiscono, attenzione, i farmaci da mettere sul mercato. A livello europeo c'è l'EMA e poi sotto l'EMA ogni nazione ha la sua. Da noi c'è l'AIFA, agenzia italiana del farmaco, che ovviamente segue le direttive dell'EMA. E anche qui, il nostro Ministro Speranza, che non è nemmeno laureato in medicina, ammette di fidarsi ciecamente dell'EMA e dell'AIFA. Quindi è evidente che la scienza deve continuare a monitorare. Io mi fido dell'AIFA, mi fido dell'EMA e penso che sapranno darci le risposte giuste. Ma da chi è finanziata l'EMA? La famosa agenzia che approva i vaccini che tutti noi dobbiamo usare. Da chi è finanziata? Sarà finanziata dall'Unione Europea, direte voi, cioè da noi cittadini, visto che lavora nel nostro interesse. Sbagliato. L'EMA si chiama Agenzia Europea del Farmaco, ma riceve dall'Unione Europea soltanto il 14% del suo budget annuale. Tutto il resto, ovvero l'86% dei fondi, le arrivano direttamente dalle case farmaceutiche sotto forma di licenze per i farmaci. Quindi pensate che meraviglia. L'agenzia che dovrebbe controllare i farmaci che vengono messi sul mercato è controllata economicamente da quelli che i farmaci li producono. Il controllato che controlla il controllore. Inoltre l'EMA è piena zeppa di personaggi che provengono dai massimi livelli dell'industria farmaceutica, tramite il cosiddetto meccanismo delle porte girevoli. Lo sapete da dove viene Emmer Cook, l'attuale direttrice del lema? Quella che una settimana sì, una settimana no, ci ripete che i benefici dei vaccini superano i rischi? viene dalla lobby europea delle industrie farmaceutiche, la EFPIA. Qui ha passato otto anni, ci dice Wikipedia, a fare da lobbista per le grandi trenta dell'industria farmaceutica, compreso Pfizer, AstraZeneca, Novartis e Johnson & Johnson. Quindi chi l'ha messa, secondo voi, a dirigere l'EMA? Gesù Bambino? Lo vedete adesso che quello dell'agenzia del farmaco è tutto un teatrino? A noi le agenzie del farmaco vengono presentate come il garante della nostra sicurezza. Se approvano, ci dicono, ci possiamo fidare. In realtà, l'EMA non è altro che la facciata pubblica dell'industria privata. E siccome le case farmaceutiche vogliono spingere al massimo i vaccini, l'EMA farà di tutto per approvarli al più presto, anche con garanzie minime sulla loro sicurezza. Se invece salta fuori una cura per il Covid che a Big Pharma non piace, allora le agenzie del farmaco troveranno mille scuse per bloccarli, tireranno in ballo la sicurezza del cittadino, diranno che non ci sono provi scientifiche sufficienti e cercheranno di dimostrare in tutti i modi che non funzionano. In fondo il meccanismo è semplice. Chi ha i soldi comanda. Follow the money, dicono gli americani. Bene, adesso che abbiamo più chiaro questo meccanismo totale di controllo da parte dell'industria farmaceutica, andiamo a vedere che cosa è successo nel nostro paese da quando è scoppiata la crisi del Covid. Uno dei primi rimedi che si è provato ad usare contro il Covid è stato la vitamina C. Già a metà febbraio del 2020, i cinesi annunciano che hanno dato inizio a uno studio con l'infusione di dosi massicce di vitamina C per la cura dei pazienti malati di Covid. Poco tempo dopo, il New York Post pubblica la notizia che alcuni ospedali di New York iniziano a curare i pazienti di coronavirus con la vitamina C. Il dottor Andrew Weber, pneumologo specializzato in medicina di emergenza presso due ospedali di Long Island, ha detto che i pazienti in terapia intensiva con coronavirus ricevono immediatamente 1500 mg di vitamina C per endovena. Il protocollo è basato su un trattamento sperimentale utilizzato su pazienti con il coronavirus a Shanghai, in Cina. I pazienti che hanno ricevuto la vitamina C, dice il dottor Weber, stanno molto meglio di quelli che non l'hanno ricevuta. Aiuta in maniera enorme, ma non viene messa in evidenza perché non è una medicina sexy. Per sexy, ovviamente, intende non è abbastanza attrattiva dal punto di vista economico. E infatti la notizia non fa in tempo a diffondersi che subito parte la contraerea mediatica, guidata dal buon Enrico Mentana. Il suo quotidiano online sentenzia. Coronavirus, la sperimentazione della vitamina C sui malati funziona? Non proprio. Seguono altri articoli sullo stesso tono. Istituto Opsologico Italiano. Coronavirus e vitamina C. Stoppa le bufale. La Repubblica. Coronavirus, la bufala della vitamina C. L'esperto. Nessuna evidenza di azione curativa o preventiva contro le infezioni virali. Il fatto alimentare. La vitamina C non protegge dal coronavirus. Un'altra bufala smontata. Notare come usano tutti la stessa parola. Bufala. Basta usare quella e ti sei dato ragione da solo. Non devi più dimostrare niente. Notare che articoli del genere sono usciti in tutto il mondo, praticamente in contemporanea. Quindi era chiaramente un'azione concertata, diretta dall'altro. E così l'opzione della vitamina C come coadiuvante nella cura del Covid è stata tolta di mezzo già sul nascere. Storia simile per la vitamina D. Settembre 2020. La vitamina D riduce il rischio di complicanze e morte per Covid-19. Lo dimostra un nuovo studio. La ricerca, condotta dall'Università di Boston, dimostra che la vitamina D può ridurre il rischio di contrarre il coronavirus del 54%. Altro studio sulla vitamina D. Coronavirus. Morti ridotti del 60%. Lo studio è stato effettuato su oltre 550 pazienti in un ospedale di Barcellona e ha anche rilevato che i malati di coronavirus trattati con dosi di vitamina D avevano l'80% in meno di probabilità di richiedere un trattamento in terapia intensiva. Anche l'Italia conferma i risultati. Da una ricerca condotta dall'Università di Padova, risulta che con la vitamina D i decessi e i ricoveri in intensiva calano dell'80%. Questo articolo, uscito su Il Giornale, dice «Centinaia di studi mondiali dimostrano come l'uso della vitamina D migliori i pazienti affetti da Covid-19». Ma il Ministero della Salute nicchia. In realtà, il Ministero del Nostro Speranza fa molto di più di nicchiare. Mette direttamente la vitamina D fra le fake news. È falso, dice, che la vitamina D protegga dall'infezione del nuovo coronavirus. Non ci sono attualmente evidenze scientifiche che la vitamina D giochi un ruolo nella protezione dell'infezione dal nuovo coronavirus. Ricordatelo questo ritornello. Non ci sono evidenze scientifiche. Nel frattempo, l'AIFA si premura di ricordarci che per avere la vitamina D è necessaria la prescrizione medica e dà un bel giro di vita sulle prescrizioni, mettendo lo stop alle ricette per chi non abbia una precisa malattia. Avete visto come sono premurosi quelli dell'AIFA? Ma aspettate, perché il più bello deve ancora arrivare. Mentre a noi il Ministero della Salute racconta che quella della vitamina D è una fake news, ai nostri militari viene caldamente consigliato di assumere proprio vitamina C e vitamina D contro il Covid. Guardate questa circolare, indirizzata al primo reggimento carabinieri paracadutisti. L'oggetto è misure di prevenzione barra contenimento da infezione Covid-19. È consigliabile l'assunzione giornaliera di vitamina C. È consigliabile l'assunzione giornaliera di vitamina D. Tale vitamina mitiga il processo infiammatorio alla base della malattia da Covid-19. Questa circolare è del 18 marzo del 2020. Quindi, fin dall'inizio, sapevano che la vitamina D è utile contro il Covid. Ma a noi raccontano che si tratta di fake news. Chissà perché. A fine aprile del 2020 esplode il caso del plasma, ovvero la sieroterapia del dottor De Donno dell'ospedale di Mantova. Affari Italiani pubblica un articolo che dice Coronavirus, la cura c'è ma non se ne parla. Ospedali di Pavia e Mantova che non hanno morti da un mese curano con la sieroterapia le trasfusioni di plasma dei guariti. Sintomi eliminati in 2-48 ore. Affari Italiani pubblica anche un video nel quale compare per la prima volta il dottor De Donno. Un'altra speranza contro il Covid è racchiusa qui. In questa sacca di colore giallo. È il plasma, cioè la parte liquida del sangue. Proviene da persone guarite dal Covid-19. All'ospedale di Mantova già 22 pazienti gravi hanno ricevuto infusioni di plasma. Tutti sono migliorati e alcuni già guariti. I miglioramenti sono immediati. Quando dico immediati, dico nel giro di poche ore. I pazienti che normalmente noi facevamo fatica a svezzare dalla ventilazione meccanica dopo aver infuso il plasma riusciamo a svezzare. I pazienti che erano intubati riusciamo a estubarli. La durata media del ricovero nella nostra terapia intensiva che normalmente era di 16 giorni adesso si è ridotta a 5-6 giorni. È una terapia che è un peccato non utilizzare ma quando dico un peccato intendo dire un peccato mortale e non un peccato veniale. Questo video, anche grazie a noi, fa il giro della rete e così la settimana seguente ci svegliano tutti. Il Tg di Mentana fa un servizio sulla plasma terapia, il dottor De Donno viene invitato a stasera Italia dalla Palombelli e poi da Bruno Vespa a Porta a Porta. Nel frattempo arrivano anche dall'estero conferme sulla validità della cura. Sulla rivista Nature esce un articolo intitolato il siero dei convalescenti si presenta come prima scelta nella cura del coronavirus. Da Locarno, in Svizzera, si annuncia uno studio con il plasma dei convalescenti. Al bambino Gesù di Roma, un bimbo di 6 anni positivo al coronavirus deve essere operato per un trapianto di midollo. Prima dell'operazione viene sottoposto al trattamento con plasma ottenuto da un soggetto guarito dall'infezione e si è così negativizzato dal virus. Anche dalla Cina arrivano notizie promettenti sul plasma. A questo punto, uno si aspetta che ha dei due De Donno e ai suoi colleghi vengono fatti i ponti d'oro e che gli venga data in mano una seria sperimentazione per standardizzare la cura e renderla universale. Invece, come forma di ringraziamento, De Donno riceve subito una bella visitina dei NAS che vengono a sfrugugliare nel suo ospedale per vedere se è tutto a posto. Mantova, la cura del plasma, finisce sotto la lente dei NAS. De Donno capisce l'antifona e dichiara «Se qualcuno crede di scoraggiarmi, non ci riuscirà». Ma la guerra ormai è iniziata. Il Fatto Quotidiano prende in giro De Donno chiamandolo Mr. Plasma e manda a intervistarlo la solita selvaggia Lucarelli che insinua ripetutamente che lui abbia mentito sui pazienti guariti. La stampa del neodirettore Giannini le definisce le fake news sul plasma miracoloso «Chi le diffonde è un lesto fante». Poi arriva Burioni che la definisce una delle cure magiche proposte dalla rete. L'ultima delle cure magiche che vengono proposte nella rete per curare questa infezione dal coronavirus è l'utilizzo del plasma dei soggetti guariti. È sicuramente una prospettiva interessante ma è una prospettiva d'emergenza è una prospettiva che non può essere utilizzata ad ampio spettro perché chiaramente i guariti non è che possiamo svenarli e salassarli all'infinito. È certo perché secondo Burioni sono sempre gli stessi cinque pazienti che devono dare il sangue a tutti i malati futuri. Non è che man mano che guariscono poi quelli nuovi possono diventare a loro volta donatori. Poi arriva Ilaria Capua che ci mette in guardia contro i rischi della cura al plasma. Si tratta di un metodo antichissimo dice la virologa una pratica medica in larghissima parte abbandonata e risuscitatela se è stata abbandonata. Che problema c'è? Se una cosa funziona usiamola, no? No, dice la capua. Il plasma consiste in porzioni di sangue di una persona che è guarita quindi è un po' come una trasfusione. Si tratta di una pratica che ha dei rischi. Avete visto? Quando si tratta di vaccinare la gente allora i rischi si possono correre tranquillamente. Quando invece si tratta di usare una cura che è già disponibile ecco che di colpo tutti si preoccupano dei rischi dei pazienti. Nel frattempo il Lazio di Zingaretti che è uno che vaccinerebbe anche i paracarri se potesse boccia la proposta per l'uso della terapia del plasma per immune. Il consigliere Davide Barillari che aveva presentato la proposta dichiara quando la politica boccia una soluzione che salva le vite non solo è irresponsabile, diventa criminale. Ancora una volta gli interessi economici sovrastano il bene comune. Nella regione Marche interviene addirittura il comitato etico che dice no alla terapia del plasma. Questo brusco stop di fatto impedisce alle Marche di procedere con la somministrazione del plasma iperimmune nei casi gravi di malati di Covid. Un no che ha sorpreso gli ospedali di Torrette, Marche Nord e Fermo selezionati per iniziare la sperimentazione e dove già erano stati individuati circa 100 pazienti. Chissà quanti di questi pazienti sono morti che invece si sarebbero potuti salvare. Purtroppo non lo sapremo mai. Ma aver stoppato la terapia del plasma sul territorio non basta perché nel frattempo la gente ne ha sentito parlare e la richiede un po' dappertutto. Bisogna quindi sconfiggerla anche dal punto di vista scientifico. E così il nostro ministro Speranza decide di fare una sperimentazione a largo raggio che si chiamerà Progetto Tsunami. Ma chi lo mette in mano? Non certo a De Donno che per prima l'aveva utilizzata con successo. No, la mette in mano a 56 centri distribuiti in 12 regioni. E da chi è gestito il progetto? Dall'Istituto Superiore di Sanità con il solito comitato scientifico, il direttore dell'AIFA, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il direttore degli Spallanzani, eccetera. Hanno preso tutto in mano loro. E com'è finito il progetto Tsunami? Nel nulla. Per lunghi mesi non se ne sente più parlare. Poi a settembre del 2020 esce questo articolo. Non decolla il progetto Tsunami. L'appello del responsabile a istituzioni e associazioni. Il professor Menichetti, investigatore principale del progetto Tsunami, lamenta che soltanto una decina di centri ospedalieri sono stati attivati e che siano stati fatti solo una ventina di arruolamenti in tutto. E quali sono stati gli ostacoli riscontrati? È emersa una complessità nelle procedure richieste dall'Istituto Superiore di Sanità, ma anche una complessità delle procedure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Attenzione, dopo che il protocollo è diventato nazionale, cioè gestito dall'Istituto Superiore di Sanità e AIFA, l'impressione è che invece di un'accelerazione ci sia stata una complicazione. Avete visto le meraviglie della burocrazia? Con la burocrazia si riesce ad affossare tutto senza che nessuno risulti responsabile. E così passa l'inverno, la gente continua a morire e della plasmaterapia non si sente più parlare. Fino allo scorso 15 aprile è quando l'AIFA boccia definitivamente la cura con i plasmi per immune dicendo che non ha evidenziato un beneficio. Bassetti esulta dicendo l'avevo già detto, credo e spero che sia la parola fine a questo tipo di cura. Certo che è la parola fine, lo avete deciso voi fin dall'inizio. Altro caso curioso è quello della lattoferrina. Nel mese di aprile all'Università di Tor Vergata scoprono che questa proteina, che si trova anche nel latte materno, è in grado di fermare il progresso dell'infezione da Covid. Scoperta una proteina in grado di contenere gli effetti del Covid-19 è la lattoferrina, la ricerca fatta dall'Università di Tor Vergata e la Sapienza di Roma. Tutto nasce da una sua intuizione. Esattamente, fu proprio così. Durante le fasi cruciali della pandemia mi misi a riflettere sul fatto che un dato su tutti era evidente, che si ammalavano gli adulti e gli anziani con sintomi gravi. I bambini o non si ammalavano o avevano sintomi lievi. E qual era il segreto? Il segreto era proprio nell'immunità naturale di questi bambini e nell'immunità anticorpale. Sappiamo che nell'immunità naturale una proteina importantissima, la lattoferrina, viene già ereditata dal bambino durante l'allattamento. E questa lattoferrina viene studiata per le sue proprietà antivirali potentissime. Sì, agli inizi di aprile avete deciso di testare la lattoferrina sui vostri pazienti malati di Covid-19. Abbiamo deciso di trattare i pazienti Covid-19 positivi all'esordio della malattia con sintomi gastrointestinali, tosse, cefalea, debolezza muscolare e i pazienti anche Covid-19 positivi ma asintomatici. Incredibilmente, dopo 10 giorni dalla terapia, osservavamo una scomparsa di questi sintomi e dopo 10-12 giorni anche ottenevamo la negativizzazione del tampone. Avete sentito? Scomparsa dei sintomi dopo 10 giorni di terapia e negativizzazione del tampone. Cioè il paziente non era più positivo al virus. Anche gli studi di laboratorio confermano che la lattoferrina blocca le fasi precoci dell'infezione da Covid. E mentre al Policlinico di Tor Vergata si studiano gli effetti sui pazienti, parallelamente all'Università La Sapienza partono studi di laboratorio. I risultati ottenuti dimostrano che la lattoferrina blocca le fasi precoci dell'infezione da SARS-CoV-2 e a detta di colleghi dell'Università del Michigan è attiva anche quando la cellula è già infetta. Quindi direte voi tutti a studiare la lattoferrina, giusto? Sbagliato. La notizia è uscita una volta sola nel TG regionale che avete visto, dopodiché di lattoferrina non si è mai più sentito parlare. A qualcuno evidentemente non interessava bloccare le fasi precoci dell'infezione. Un altro scandalo, e questo merita veramente la parola scandalo, è quello dei cortisonici. Siamo nell'aprile 2020, nel bel mezzo della prima ondata, con centinaia di persone che muoiono ogni giorno in ogni parte d'Italia. Il 24 di aprile il ministro Speranza riceve una lettera firmata da una trentina di medici del settore che gli comunicano di aver scoperto che i cortisonici utilizzati in un certo modo sono in grado di contrastare il processo infiammatorio nella prima fase della malattia. Scrivono i medici, questo appello è quindi volto a richiamare la sua attenzione sulla necessità di promuovere l'adozione tempestiva e precoce di una semplice terapia antinfiammatoria efficace come quella cortisonica. I cortisonici rappresentano i farmaci antinfiammatori che, quando utilizzati, stanno dando ottimi risultati anche nella Covid-19 in base ai dati rilevati nei pazienti trattati e alle evidenze che le alleghiamo e che, se lo riterrà opportuno, le illustreremo più in dettaglio. Quindi questi medici dicono al ministro che hanno ottenuto dei risultati positivi nella prima fase della malattia e che sono pronti a fargli vedere i risultati. Notare che la lettera non è firmata da Cip e Ciop, porta la firma di professori di farmacologia, neurologi, medici pneumologi, chirurghi anestesisti, cardiologi, professori di medicina, professori di farmacologia, ricercatori, anatomopatologi, eccetera. Ebbene, cosa fa il nostro ministro di fronte a una lettera del genere? La ignora completamente. Non solo lo fa a convocare i medici per verificare i loro risultati, ma non li degna nemmeno di una risposta, nemmeno un grazie scritto di corsa dalla segretaria. Passano due mesi e in Inghilterra virgolette scoprono i cortisonici. Coronavirus, OMS, desametasone è svolta scientifica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità accoglie con favore i risultati dei primi studi clinici condotti nel Regno Unito sul desametasone, un corticosteroide che si è dimostrato salvavita per i pazienti con forme gravi di Covid-19. Il direttore dell'OMS, Gebra Jesus, si congratula con il governo del Regno Unito, l'Università di Oxford e i numerosi ospedali e pazienti del Regno Unito che hanno contribuito a questa svolta scientifica salvavita. Ministro Speranza, quante persone sono morte da quando lei ha cestinato quella lettera al giorno in cui gli inglesi hanno scoperto che i cortisonici possono salvare la vita dei pazienti? Io all'epoca trovai talmente scandalosa questa faccenda che feci un video intitolato Ministro Speranza di redimissioni e lo mandai a tutte le redazioni televisive più importanti. Ma a nessuno interessò questa notizia, vero Mentana? Perché la parola d'ordine è proteggere speranza, proteggere il governo, ignorare tutte le possibili cure e spingere i vaccini come unica soluzione al problema Covid. 3 settembre 2020. Il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, comunica di aver scoperto che la quercetina funge da inibitore specifico per il virus responsabile del Covid-19, mostrando un effetto destabilizzante sulla 3CL Pro, una delle proteine fondamentali per la replicazione del virus. Lo studio è pubblicato sull'International Journal of Biological Macromolecules. Ed eccolo qua, lo studio pubblicato. La notizia esce sulla stampa. Covid, un composto naturale lo uccide. Scoperte del CNR. Quercetina, la molecola naturale che uccide il virus. CNR, così inibita la proteina chiave. Tutti a studiare la quercetina, quindi? Ovviamente no. Dal Ministro Speranza, il silenzio più tombale. Poi il 30 settembre, tre settimane dopo, il Ministero della Sanità pubblica questa nota. Non esistono ad oggi evidenze solide e incontrovertibili, ovvero derivati da studi clinici controllati, di efficacia di supplementi vitaminici e integratori alimentari, ad esempio vitamine, inclusa vitamina D, latoferrina, quercetina, il cui utilizzo per questa indicazione non è quindi raccomandato. Cioè, la solita scusa, non esistono prove incontrovertibili e quindi invece di andare a cercarle queste prove, l'utilizzo non è raccomandato. Fino dalla storia. Della quercetina non si è mai più sentito parlare. L'ozonoterapia è un trattamento con azione antifiammatoria e antidolorifica che si usa soprattutto per le patologie specifiche dalla colonna vertebrale. Ha anche delle forti proprietà antibatteriche e per questo motivo è stata sperimentata anche con il Covid-19. Nel febbraio del 2020 i cinesi riferiscono di un primo caso di un paziente con il Covid-19 in condizioni critiche che è stato trattato con ozonoterapia. Il paziente si è completamente ripreso ed è stato dimesso dall'ospedale dopo essersi liberato dal virus. In Spagna un gruppo di pazienti trattati con ozonoterapia rivela di guarire molto più rapidamente di un gruppo di pazienti che non l'hanno ricevuta. La linea marrone sono i pazienti trattati con ozono, la linea verde quelli senza. I tempi di recupero sono molto più rapidi nel primo caso. Da noi l'ospedale di Udine è il primo in Italia a curare pazienti con ozonoterapia. Questo trattamento viene somministrato in fase precoce cioè prima che il paziente entri in terapia intensiva. Su 36 pazienti trattati 35 sono stati poi dimessi. Ma a quanto pare il nostro ministero non sembra interessato ai pazienti guariti. Nel luglio del 2020 l'Istituto Superiore di Sanità pubblica un rapporto nel quale scrive oltre all'ipotizzata attività antivirale i meccanismi che sarebbero alla base della possibile efficacia dell'ozono nel Covid-19 comprendono gli effetti antiossidante antifiammatorio immunostimolante ossigenante e citoprotettivo. Sebbene la maggior parte di tali meccanismi possa teoricamente esitare in un effetto benefico in pazienti affetti da Covid-19 al momento mancano delle dimostrazioni dirette ottenute in studi controllati. E già mancano gli studi controllati e nessuno ovviamente pensa di farli. Pensate a novembre il deputato del gruppo misto Pedrazzini arriva a fare una interrogazione parlamentare al ministro della salute chiedendo se il ministro interrogato lo ritenga urgente adottare iniziative per inserire viste le evidenze scientifiche in attesa della disponibilità del vaccino le terapie di ossigeno ozono utilizzandolo sia per la cura dei pazienti sia per sanificare gli ambienti per contenere i focolai e evitare il contagio ma la risposta è sempre la stessa le nuove informazioni dice il ministero non consentono di modificare le conclusioni riportate nel rapporto dell'istituto superiore di sanità del 23 luglio inoltre alcuni degli effetti esercitati dall'ozono impongono un'ovvia cautela per l'uso nella condizione clinica in oggetto nuovamente la cautela quando c'è da provare i vaccini si corre non si guarda in faccia nessuno quando invece esce una cura che costa poco e che è già disponibile allora salta fuori la cautela la adenosina è una sostanza prodotta dal nostro organismo che ha il compito di bloccare le infiammazioni acute e induce la riparazione dei danni ai tessuti nel giugno del 2020 due dottori del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria Sebastiano Macheda e Pierpaolo Correale hanno un'intuizione geniale far arrivare l'adenosina direttamente ai polmoni nei malati di covid tramite una tecnica di aerosol i risultati si sono visti insieme alle prime ore della somministrazione del trattamento miglioramento delle condizioni generali dei pazienti del livello di ossigenazione risalito a valori normali in 120 ore tutto riscontrato e repertato radiologicamente ma ciò che più ha colpito inaspettatamente è stata la totale riduzione della carica virale potremmo dire la scomparsa sentiamo il dottor Correale e arriva da Reggio Calabria una tecnica innovativa contro il coronavirus l'hanno sviluppata al grande ospedale metropolitano ci dice di più Marco Innocente Furina la sostanza magica si chiama adenosina si chiama adenosina è una sostanza che è prodotta dal nostro organismo normalmente ha il compito preciso di spegnere l'infiammazione e di indurre i processi di riparazione una molecola capace di spegnere l'infiammazione come un interruttore alla base di un'intuizione che potrebbe rivoluzionare l'approccio la cura dei malati affetti da covid gli studi del dottor Correale sull'immunoterapia oncologica intanto il trattamento sta dando ottimi risultati nelle ultime settimane a Reggio la mortalità da coronavirus è crollata la terapia ovviamente è rivoluzionaria perché riduce i tempi di trattamento a sette giorni e quindi praticamente la guarigione del paziente riduce la mortalità drammaticamente 13 dei 14 pazienti gravi sottoposti alla cura si sono totalmente ripresi dopo trattamento con la adenosina in 13 su 14 il valore tornava nella norma e in tanti pazienti che sono stati sottoposti all'attacca all'inizio e dopo terapia abbiamo visto una riduzione di segni infiammatori potenzialmente dalla Calabria dal Reggio Calabria viene una delle cure più risolutive per il covid se si riproduce la fase 3 penso che sarà così se si riproduce la fase 3 ma la fase 3 quella della sperimentazione non è mai arrivata perché? perché l'AIFA blocca la cura sperimentale con adenosina del grande ospedale metropolitano l'AIFA si dice non favorevole in considerazione di un rapporto rischio-beneficio non definibile si ritiene che a fronte dell'attuale disponibilità di alcune opzioni terapeutiche di provata efficacia lo studio proposto non possa essere autorizzato risposta doppiamente ridicola perché non si capisce quali dovrebbero essere queste opzioni terapeutiche di provata efficacia è dal primo giorno che ci dicono che non ci sono cure valide e adesso di colpo ce ne sono addirittura tante che questa qui non serve più e infatti il dottor Correale si lamenta è stata bloccata senza delle motivazioni comprensibili e senza la possibilità di un confronto per il quale eravamo a disposizione in un momento storico critico per la salute nulla dovrebbe essere lasciato al caso ma infatti caro dottor Correale nulla è lasciato al caso qui c'è chiaramente una volontà di negare sistematicamente ogni possibile cura che si presenti l'ivermectina è un noto antiparassitario che si usa in tutto il mondo da oltre 40 anni durante la crisi del covid alcuni medici australiani hanno scoperto che l'ivermectina inibisce la replicazione del virus del covid in vitro da noi esce la notizia coronavirus antiparassitario ivermectina in vitro lo uccide in 48 ore l'antiparassitario ivermectina sperimentato in vitro in sole 48 ore è stato in grado di ridurre di 5.000 volte l'infezione il che vale a dire che è riuscito ad annientarlo il virus mostrando già una significativa riduzione dopo un giorno solo anche uno studio britannico rivela che ivermectina è efficace contro il covid con tassi di sopravvivenza superiori all'83% ma da noi il nostro ministero della salute non ci sente il dottor Bisoffi dell'ospedale Negrar di Verona si lamenta abbiamo un farmaco che può salvare delle vite ma in Italia lo usiamo per la cura della pelle nel marzo di quest'anno la Repubblica cieca autorizza temporaneamente l'uso dell'ivermectina per la crisi del covid-19 il ministro della salute ha fatto una legge in base alla sua autorità legale per proteggere la salute pubblica nel contesto dell'attuale pandemia globale e questi sono i dati del ministero della salute cieco di fine aprile la freccia rossa indica il momento in cui l'ivermectina viene ufficialmente approvata ai primi di marzo di quest'anno la linea rossa che segue mostra la caduta quasi verticale delle morti giornaliere dovute al covid passano da 200 a meno di 50 al giorno in poche settimane quindi l'EMA cosa fa? ovviamente l'EMA raccomanda di non utilizzare l'ivermectina per la prevenzione o il trattamento di covid-19 al di fuori degli studi clinici sono necessari ulteriori studi randomizzati e ben disegnati per trarre conclusioni in merito all'efficacia e alla sicurezza del medicinale della prevenzione e del trattamento di covid-19 mi raccomando fate con calma fate gli studi ben disegnati intanto la gente muore ma chi se ne frega veniamo adesso al caso dell'idrossiclorochina che è sicuramente il più emblematico di tutti la clorochina è un medicinale noto in tutto il mondo che si utilizza con successo da oltre 70 anni per combattere la malaria ma da quando ci è scoperto che si poteva usare anche contro il covid è diventata improvvisamente qualcosa di pericoloso per la salute arrivando addirittura ad essere proibita il primo a parlare di idrossiclorochina come cura contro il covid in Europa è il professor Didier Raul direttore dell'ospedale universitario di malattie infettive di Marsiglia attenzione perché non stiamo parlando di un virologo qualunque il dottor Raul ha un indice H cioè il valore di credibilità scientifica superiore non solo a quello di tutti i virologi italiani ma superiore addirittura a quello di Anthony Fauci che è considerato un dio in terra nel mondo della virologia basta guardare la lista impressionante di premi che il dottor Raul ha ricevuto nella sua vita per capire il peso del personaggio che abbiamo davanti il 18 marzo del 2020 arriva la notizia dalla Francia coronavirus il farmaco contro la malaria funziona in tre casi su quattro il dottor Raul ha condotto uno studio su 24 pazienti sottoposti a trattamento con idrossiclorochina notando che il 75% dei pazienti dopo sei giorni di trattamento aveva una carica virale negativa ovvero non aveva più il virus attivo all'interno del proprio corpo non solo l'idrossiclorochina utilizzata in abbinamento all'antibiotico azitromicina utilizzato normalmente contro la polmonite batterica ha portato alla guarigione dei pazienti in una settimana in seguito il dottor Raul insieme a una ventina di altri dottori pubblica uno studio retrospettivo su 1061 casi di covid-19 curati con idrossiclorochina e azitromicina risultato su un totale di 1061 pazienti nell'arco di 10 giorni 973 di loro hanno avuto un esito clinico positivo e sono stati curati dal virus cioè in sostanza il 91,7 dei pazienti sono guariti anche dagli Stati Uniti arrivano buone notizie una ricerca fatta nel Michigan rivela che una somministrazione precoce di idrossiclorochina riduce in modo sostanziale il rischio dei pazienti di morire la ricerca pubblicata nell'International Journal of Infectious Diseases ha determinato che l'idrossiclorochina offre una riduzione del rischio del 66% e l'idrossiclorochina accoppiata alla zitromicina del 71% rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto niente i ricercatori sottolineano l'importanza di un trattamento precoce dei pazienti ricordiamo questo fatto il trattamento precoce perché è molto importante a far esplodere a livello mondiale il caso dell'idrossiclorochina è lo stesso Presidente Trump che la promuove apertamente durante una conferenza stampa alla Casa Bianca anche in Italia si comincia a usare l'idrossiclorochina che viene introdotta in via sperimentale durante la prima ondata di marzo-aprile lo racconta il dottor Luigi Cavanna primario dell'ospedale di Piacenza in questa intervista a Radio Radio c'è una domanda ma lei ha utilizzato anche la famosa famigerata idrossiclorochina guardi l'idrossiclorochina l'hanno utilizzata tutti in quel periodo almeno noi l'avevamo nel protocollo ma non era il mio protocollo come sono inventato io era un protocollo regionale della ASL ma so che in tante altre realtà vicino a noi cioè è pubblicata sulle linee guida ma funziona o no? la mia impressione la mia impressione è che assolutamente funzioni funziona e come un'altra conferma della validità dell'idrossiclorochina arriva dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna qui i medici dopo essere stati inondati di pazienti nelle prime settimane hanno deciso di andare a curarli a casa prendendoli nella fase iniziale della malattia e dandogli un kit di medicine che comprendeva anche l'idrossiclorochina da quando abbiamo incominciato a uscire dall'ospedale a trasformare il paradigma del sto ad aspettarti con i letti di terapia intensiva pronti al vengo a prenderti a casa che abbiamo visto sparire i pazienti che arrivavano respirando con le punte dei polmoni li abbiamo visti sparire ai primi di aprile in più come terapia sperimentale approvata dall'AIFA si è dato ai malati covid la idrossiclorochina noi consegnavamo fisicamente i blister con 5 giorni di trattamento in una fase precoce di malattia e efficace molti guariti? si 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 quasi tutti guariti così diciamo passando per l'ambulatorio? si 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 guarigione clinica quindi non solo i pazienti guarivano con l'idrossiclorochina se presi nella fase precoce ma in questo modo si evitava anche di intasare gli ospedali un'esperienza simile è stata fatta da dottor Mangiagalli e da alcuni suoi colleghi nel nord Italia che già dal mese di marzo hanno iniziato a trattare i pazienti con l'idrossiclorochina sommata alla zitromicina noi grazie a conoscenza all'interno dell'ospedale abbiamo avuto anche un collega che aveva relazioni direttamente con dei colleghi cinesi siamo arrivati a pensare ben prima che AIFA autorizzasse l'utilizzo in via sperimentale dell'idrossiclorochina un trattamento combinato con tre farmaci che sono l'idrossiclorochina la zitromicina e l'eparina la cosa è stata abbastanza sorprendente perché non solo io ma molti colleghi non sono medici di medicina generale anche oncologi come la dottoressa Paola Varese di Ovada e altri colleghi del Basso Alessandrino colleghi della Bergamasca colleghi anche del Fiori Venezia Giulia hanno visto che improvvisamente i pazienti nel giro di pochi giorni stavano bene pochissimi sono stati ricoverati in ospedale le direi una cifra abbastanza approssimativa ma intorno non più del 5% dei pazienti trattati sono stati ricoverati in ospedale ma soprattutto nessuno nessuno di questi pazienti da noi trattati a domicilio è morto nessuno dei pazienti trattati a domicilio è morto sempre in primavera uno studio del Neuromed di Pozzilli condotto su 30 ospedali italiani dimostra che l'idrossiclorochina riduce la mortalità nel 30% dei pazienti l'idrossiclorochina il vecchio farmaco antimalarico già in passato soggetto a numerose polemiche è di nuovo al centro del dibattito tra ricercatori e scienziati per il trattamento da covid-19 uno studio condotto in 33 ospedali italiani ha dimostrato che il farmaco riduce del 30% il rischio di morte nei pazienti ospedalizzati per infezione da coronavirus riduce del 30% il rischio di morte dei pazienti quindi cosa succede? ormai lo avete capito a quel punto parte la campagna mediatica contro l'idrossiclorochina a livello mondiale il primo a dare il segnale di battaglia è proprio Anthony Fauci che si permette addirittura il lusso di smentire Trump in sua presenza la risposta è no ha detto Fauci e le prove che esistono sono solo prove anedotti Fauci in questo caso mente già dal 2005 Anthony Fauci sapeva che la clorochina è efficace contro il coronavirus guardate questa pubblicazione scientifica la data è 22 agosto 2005 e il titolo dice la clorochina è un potente inibitore dell'infezione e della diffusione del SARS coronavirus il virus della SARS del 2005 era simile al 90% a quello attuale questa ricerca è uscita sul Virology Journal che è praticamente la pubblicazione ufficiale del NIAID il National Institute for Allergy and Infectious Diseases cioè l'istituto nazionale di malattie infettive americane e chi è il direttore del NIAID? ma Anthony Fauci naturalmente è dal 1984 che lo dirige quindi la rivista scientifica dell'istituto diretto da Anthony Fauci ha pubblicato nel 2005 una ricerca che conferma la validità della clorochina contro il coronavirus in vitro e sugli animali Fauci mente sapendo di mentire quando dice che non ci sono prove scientifiche in ogni caso la bugia di Fauci non basta affermare il successo dell'idrossiclorochina e quindi arrivano anche le smentite ufficiali quelle scientifiche in giugno esce uno studio chiamato Recovery che stabilisce che non ci siano benefici clinici dall'uso dell'idrossiclorochina nei pazienti ospedalizzati con il covid-19 chi è lo sponsor dello studio? curiosamente è l'università di Oxford cioè la stessa università che ha appena ricevuto i finanziamenti da Bill Gates per sviluppare il vaccino contro il covid con AstraZeneca ma a parte lo sponsor se si guarda lo studio Recovery più da vicino si scopre che l'idrossiclorochina è stata data ai pazienti che si trovavano già nella fase avanzata della malattia quando è molto più difficile recuperarle mentre l'idrossiclorochina è efficace nella prima fase della malattia alla comparsa dei sintomi lo dicono tutti i medici che l'hanno utilizzata inoltre si è scoperto che le dosi utilizzate nello studio Recovery erano esagerate creando quindi delle reazioni avverse che non erano affatto necessarie quindi lo studio Recovery è una ricerca falsata già in partenza fatta con la chiara intenzione di gettare discredito sull'idrossiclorochina ma non basta subito dopo esce una ricerca pubblicata dalla prestigiosissima rivista Lancet lo studio sostiene di aver analizzato i casi di 96.000 pazienti nel mondo e conclude che l'idrossiclorochina non solo non abbia la minima efficacia contro il covid ma che aumenti addirittura del 35% il rischio di morte nei pazienti le agenzie del farmaco non aspettavano altro la FDA americana revoca immediatamente l'autorizzazione per l'uso dell'idrossiclorochina negli Stati Uniti l'EMA dice rischio di suicidio per chi prende idrossiclorochina e come arrivano a questa conclusione? l'EMA era stata informata dall'Agenzia Spagnola dei Medicinali di 6 casi di disturbi psichiatrici in pazienti covid a cui erano state somministrate dosi di idrossiclorochina superiori a quelle autorizzate quindi cosa fanno? prendono 6 poverini gli fanno assumere magari 10 volte la dose autorizzata e poi dicono che strano hanno degli squilibri psichici è meglio non usarla il nostro Ministero della Salute si accoda immediatamente sostanziale assenza di benefici con possibili effetti collaterali anche potenzialmente letali l'AIFA ha sospeso l'autorizzazione all'utilizzo del farmaco per il covid attenzione perché non stiamo parlando di un farmaco sconosciuto scoperto l'altro ieri l'idrossiclorochina ci dice Wikipedia è stata approvata per uso medico negli Stati Uniti nel 1955 è nell'elenco dei farmaci essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità i medicinali più sicuri ed efficaci necessari in un sistema sanitario nel 2017 è stato il 128 farmaco più prescritto negli Stati Uniti con oltre 5 milioni di prescrizioni 5 milioni di americani lo prendono ogni anno e nessuno si è mai suicidato e adesso di colpo è diventato una medicina pericolosa con effetti potenzialmente letali miracoli della scienza moderna nel frattempo Speranza si affretta a firmare i contratti per acquistare i vaccini e sentenzia il vaccino è l'unica soluzione definitiva al covid-19 cioè lui lo sa già lo ha già capito che non ci sarà mai nessuna cura chissà che glielo ha spiegato anche in Francia dopo la ricerca del Lancet viene tolta l'autorizzazione all'idrossicloroquina contro il covid-19 nel frattempo il professor Raul denuncia ad una commissione parlamentare di essere stato ripetutamente minacciato dall'emissario di una casa farmaceutica la Gilead che gli intimava di smettere di usare l'idrossicloroquina per curare i pazienti quando ho parlato la prima volta della cloroquina qualcuno mi ha menacato a molte volte in maniera anonima ho portato la plainta e ho finito di trovare che c'è lui che aveva reçu il più d'argento di Gilead depuis 6 anni e tanto per non farsi mancare niente a Taiwan una tremenda esplosione distrugge una fabbrica farmaceutica dove si produce idrossicloroquina la fabbrica è il secondo fornitore mondiale del principio attivo dell'idrossicloroquina avete visto a volte le coincidenze nella vita ma attenzione perché adesso arriva il più bello talmente sorprendente è stata questa proibizione improvvisa dell'idrossicloroquina medicinale ripeto conosciutissimo e affidabilissimo che molti medici protestano e chiedono di vedere i dati originali della ricerca del Lancet ma questi dati stranamente non arrivano mai i giorni passano le pressioni aumentano e alla fine il Lancet è costretto a riconoscere di aver pubblicato una patacca e ritira la ricerca originale ma la proibizione sull'idrossicloroquina stranamente rimane cioè hanno sospeso l'autorizzazione basandosi sulla ricerca fraudolenta del Lancet ma anche dopo il ritiro della ricerca l'idrossicloroquina non viene più autorizzata nei protocolli ufficiali e la cosa più scandalosa è che lo ammettono apertamente guardate questo è il famoso documento dell'AIFA datato 22 luglio 2020 nel documento si legge che lo studio del Lancet è stato ritirato dagli autori il 4 giugno 2020 in seguito alla segnalazione di possibili importanti difetti nel database utilizzato per l'analisi importanti difetti nel database significa che lo studio è un falso colossale nonostante questo nella prima pagina dello stesso documento campeggia la scritta l'AIFA conferma la sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo off-label del farmaco al di fuori degli studi clinici quindi i medici che curano i pazienti covid a casa non possono utilizzarlo avete sentito un solo giornalista italiano denunciare questo scandalo niente silenzio assoluto tutti complici tutti a far finta di niente nell'ottobre dell'anno scorso alcuni medici italiani lanciano una petizione all'AIFA con una raccolta firme per poter tornare a usare la clorochina ma l'AIFA fa finta di niente tira a campare e l'autorizzazione non arriva mai a quel punto la regione Piemonte decide di autorizzare autonomamente l'idrossiclorochina nel protocollo di cure ma arriva a Burioni come un falco che sentenzia inutile e pericolosa buttatela nel cesso gli fa eco Matteo Bassetti un altro propugnatore di vaccini a tutto spiano no all'idrossiclorochina questo farmaco non solo non serve ma ha molti effetti collaterali a quel punto un gruppo di medici di base decide di fare ricorso al consiglio di stato per far togliere il divieto messo dall'AIFA sull'idrossiclorochina l'11 dicembre il consiglio di stato accoglie la richiesta dei medici di tornare a usare l'idrossiclorochina e sospende la famigerata nota del 22 luglio dell'AIFA che ne vietava la prescrizione la perdurante incertezza circa l'efficacia terapeutica dell'idrossiclorochina scrive il consiglio non è ragione sufficiente a giustificare l'irragionevole sospensione del suo utilizzo calcolate che siamo a dicembre del 2020 il divieto dell'AIFA risale a luglio quindi sono già passati cinque mesi dal divieto nei quali Dio solo sa quante persone sono morte che avrebbero potuto essere salvate ma nonostante la rimozione del divieto l'AIFA insiste 22 dicembre AIFA non raccomanda l'utilizzo dell'idrossiclorochina nei pazienti con Covid-19 in ospedale AIFA inoltre non ritiene utile né opportuno autorizzare nuovi studi clinici nei pazienti ricoverati cioè proprio non vogliono sentirne parlare ma non è finita nel marzo di quest'anno il Tar del Lazio sospende finalmente le linee guida del ministero quelle della vigile attesa e il nostro ministro della salute cosa fa? fa ricorso contro le cure a domicilio il decastero e l'AIFA si oppongono all'ordinanza del Tar del Lazio che ha sospeso i protocolli sulla vigile attesa cioè l'AIFA e il ministro Speranza non ci stanno a vedere autorizzate le cure a domicilio e quindi fanno ricorso stavolta il consiglio di stato boccia l'ordinanza del Tar che aveva sospeso le linee guida e tutto torna come prima tachipirina e vigile attesa dalle linee guida attualmente in vigore leggiamo no ai corticosteroidi nella prima fase della malattia no alle parina no agli antibiotici e no all'idrossiclorochina hanno vinto loro non hanno voluto l'idrossiclorochina e alla fine sono riusciti a bloccarla e così per volontà esplicita del nostro ministro Speranza si torna con la suora accanto al letto a pregare che la malattia passi da sola e non ti mandi al cimitero tra l'altro io non so come quest'uomo possa riuscire a dormire la notte come si può fingere che non siano mai esistiti tutti i malati guariti dal dottor Raul dal dottor Cavanna dal dottor Mangiagalli dall'ospedale Sant'Orsola e dai mille altri medici nel mondo che hanno usato queste cure con successo come puoi continuare a nasconderti dietro alla scusa che non ci sono prove sufficienti quando ogni volta che ti portano le prove tu fai finta di niente e guardi dall'altra parte e pensare che proprio il nostro ministro nel suo libro mai pubblicato aveva messo la citazione della Costituzione nella prima pagina la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti e lui invece di garantirle le cure gliele ha negate io mi auguro veramente che un giorno ci sia un procuratore coraggioso che porti speranze in tribunale in fondo se si può portare in tribunale un ministro degli interni che ha bloccato su una nave 100 migranti per 10 giorni senza fargli nessun danno perché non si dovrebbe portare in tribunale un ministro che rischia di avere sulla coscienza decine di migliaia di morti per giunta italiani in questo caso suoi concittadini bene di cure potenzialmente valide ce ne sarebbero anche altre ma ormai lo abbiamo capito c'è una precisa volontà di non curare la gente indipendentemente dalle cure disponibili questo serve a tenere alto il numero dei morti e dei ricoverati in modo da giustificare le continue restrizioni e obbligare così la gente a scegliere il vaccino come unica via di uscita da questo incubo ve avevo promesso le prove di quello che sostengo e adesso ve le do la prima prova è di tipo logico proviamo a immaginare un mondo in cui i vaccini non esistessero non sono mai stati inventati genere non è mai esistito nessuno ha mai pensato di introdurre qualcosa nel nostro corpo per creare gli anticorpi e quindi i vaccini non sono mai stati inventati tutto il resto del mondo è identico ma i vaccini non ci sono secondo voi in un mondo del genere noi saremo ancora qui in balia del virus dopo un anno e mezzo ad aspettare in vigile attesa per vedere se ogni volta che qualcuno si ammala riesce a guarire da solo oppure finisce in rianimazione ovviamente no in un mondo senza vaccini noi avremmo già trovato non uno ma dieci protocolli diversi per curare la gente subito appena si ammala avremmo studiato a fondo l'idrossiclorochina avremmo sperimentato l'ivermectina avremmo creato in tutto il mondo delle banche del plasma e molto probabilmente a questo punto il covid per noi sarebbe solo un brutto ricordo sarebbe tutto già finito quindi come vedete c'è un solo motivo per trascinare all'infinito questo incubo è quello di continuare a terrorizzare la gente per costringerla a scegliere il vaccino come uniche via di uscita io altri motivi non ne vedo comunque se questa prova di tipo logico non vi basta vi faccio leggere nero su bianco che questa è la ragione precisa di tutti i nostri problemi non tutti infatti sanno che i vaccini che stiamo utilizzando non sono stati approvati secondo la procedura classica ma secondo la procedura di emergenza la procedura classica prevede che ci siano almeno dai 3 ai 5 anni di sperimentazione prima di mettere un vaccino sul mercato è fatto per la nostra sicurezza per vedere se ci sono effetti a lungo termine la procedura di emergenza invece prevede un'approvazione molto rapida con sperimentazione molto limitata ma solo a certe condizioni tra queste condizioni bisogna che non ci sia nessuna cura disponibile per la malattia in questione altrimenti l'approvazione di emergenza non si può fare è una condizione che vale sia per l'FDA l'agenzia del farmaco americano che per l'EMA quella europea questa è la pagina dell'FDA sull'autorizzazione per l'uso di emergenza per vaccini contro il covid-19 aggiornata al febbraio 2021 e questo è il documento la FDA potrà emettere un'autorizzazione di emergenza EUA dopo aver determinato che vengano rispettati i seguenti requisiti legali e fra i requisiti al punto 4 dice che non esista un'adeguata approvata e disponibile alternativa al prodotto per la diagnosi la prevenzione o la cura della malattia o patologia sulla pagina del lema il concetto è molto simile il titolo è autorizzazione condizionata alla commercializzazione e fra i criteri e condizioni al punto 3 c'è scritto che la medicina risponda a una necessità medica non soddisfatta per necessità medica non soddisfatta chiarisce l'EMA si intende una patologia per la quale non esiste un metodo soddisfacente di diagnosi prevenzione o cura autorizzato dalla comunità o anche se questo metodo esistesse il nuovo prodotto medicinale deve rappresentare un importante vantaggio terapeutico per i malati e siccome nessun vaccino potrà mai rappresentare un importante vantaggio terapeutico rispetto a una medicina che agisce subito le medicine normali non vengono autorizzate abbiamo svelato l'arcano le cure non sono mai state riconosciute non perché non funzionino ma perché sapevano fin dall'inizio che riconoscendo una qualunque cura valida non avrebbero potuto ottenere l'autorizzazione d'emergenza per i vaccini quindi lo vedete che paradossalmente il vaccino non è la soluzione ma è il problema pensate noi potremmo tornare a vivere tranquillamente domani mattina riaprendo tutto e curando le persone appena si ammalano con tutte le cure che ci sono disponibili e poi chi vuole vaccinarsi può anche vaccinarsi mica glielo vieta nessuno ma il vaccino come unica condizione per riavere le nostre libertà non è accettabile altrimenti si chiama ricatto e si chiama anche crimine in questo caso perché nel frattempo muoiono migliaia di persone che si potrebbero salvare bene manca ancora un pezzo della mia dimostrazione e cioè il fatto che le nostre libertà ci vengono negate intenzionalmente proprio per obbligarci ad accettare la vaccinazione come unica via di uscita e siccome una cosa del genere non posso dirvela io perché non sarei credibile ve lo faccio dire direttamente da una dei top doctors americani questa è Liana Nguyen professoressa di politica della salute alla George Washington University scrive sul Washington Post e appare spesso come commentatrice sulla CNN MSNBC e BBC è anche stata premiata dal forum economico mondiale quello di Davos fra i giovani leader globali e nel 2019 è stata nominata da Time Magazine come una delle 100 persone più influenti del mondo sentite cosa si è lasciata scappare la dottoressa Nguyen in una recente intervista alla CNN si parlava del fatto che molti stati americani come la Florida e il Texas stiano già riaprendo al 100% e che quindi il numero dei vaccinati stia diminuendo rapidamente cioè in alcuni stati americani si stanno accorgendo che si può tornare a vivere tranquillamente anche senza vaccinazioni e questo evidentemente la metteva in agitazione fate bene attenzione alle sue parole ci sono molti più persone come si può tornare a vivere come si può incentivare le persone per ottenere la vaccinazione il pezzettino perché vi resti ben chiaro in testa bene adesso lo sapete le misure restrittive vengono mantenute non perché la gente non si possa curare ma per obbligare tutti ad accettare di vaccinarci come voleva si dimostrare a questo punto a questo punto vorrei mandare due messaggi brevi il primo è ai giornalisti attenzione perché voi che continuate a chiamare negazionisti tutti quelli che protestano per questa situazione assurda finirete per passare alla storia come i nuovi collaborazionisti gli uomini di Vichy sono passati alla storia per aver aiutato il nazismo in Francia voi passerete alla storia per aver aiutato il vaccinazismo che si sta cercando di instaurare e come c'è stata una Norimberga per i nazisti ci sarà sicuramente una Norimberga anche per voi smettetela di fare i servi delle case farmaceutiche e tornate a mettervi dalla parte dei cittadini prima che sia troppo tardi il secondo messaggio è per tutti quelli che dicono non vedo l'ora di vaccinarmi così almeno questo incubo finirà non illudetevi non finirà il tira e molla delle restrizioni continuerà all'infinito oggi riaprono qualcosa per darci il contentino poi ci faranno respirare un po' quest'estate e poi state tranquilli che in autunno arriverà la quarta ondata che ci obbligherà a nuove restrizioni e vedrete che daranno la colpa a quelli che si sono divertiti troppo durante l'estate oppure daranno la colpa ai non vaccinati per cercare di metterci gli uni contro gli altri e state tranquilli che non basterà una sola vaccinazione per farla finita ci saranno i richiami perché ci saranno mille nuove meravigliose varianti e dovremo abituarci a vaccinarci tutti ogni anno sentite burla il presidente della Pfizer ci sarà una terza dose e poi il richiamo annuale ce lo dicono anche i virologi ce l'ha detto persino il presidente del consiglio ma soprattutto dobbiamo abituarci e che deve diventare un'abitudine per tutti noi non solo i sanitari che una volta all'anno dovremmo vaccinarci la copertura vaccinale per gli anni a venire perché dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire perché ci saranno delle varianti e quindi questi vaccini vanno adattati e quindi ci saranno nuove gare per gli anni a venire e infatti per prepararsi alle nuove commesse la Pfizer ha già previsto dei rincali del 900% sui vaccini una dose costerà fino a 175 dollari che pagheremo noi naturalmente con i soldi delle nostre tasse nel frattempo per non farsi mancare niente Pfizer e Moderna hanno già cominciato le sperimentazioni del vaccino sui bambini di 6 mesi e dentro novembre sarà pronto il vaccino per i neonati e fino agli 11 anni quindi questa idea di vaccinarsi pur di uscire dall'incubo è una pia illusione che vi danno l'illusione di farvi uscire dalla gabbia del lockdown serve solo a farvi entrare in una gabbia più grande quella delle vaccinazioni permanenti questo è il sogno di Big Pharma una società in cui tutte le persone sane si abituino comunque a vaccinarsi regolarmente a tutte le età una o più volte all'anno pena la restrizione delle loro libertà questo è quello che vogliono ottenere e stanno per riuscirci quindi vedete voi in che mondo volete vivere un mondo libero dove ci vengono garantite da subito delle cure valide e dove chi vuole potrà anche farsi il vaccino se lo desidera oppure un mondo di schiavi ricattati dalle continue restrizioni e condannati a girare con il passaporto vaccinale in tasca se vorremmo andare allo stadio andare in discoteca andare a trovare i genitori nelle case di riposo oppure se vorremmo viaggiare liberamente questa è la scelta noi le informazioni che avevamo ve le abbiamo date di più sinceramente non possiamo fare adesso tocca a voi decidere quale sarà il vostro futuro grazie a tutti per aver seguito questo video fino in fondo grazie a tutti Grazie a tutti.